Dio può accorciare le distanze con noi quando con onestà, senza infincimenti, li portiamo alla nostra fragilità. Ci tende la mano per rialzarsi quando sappiamo toccare il fondo e ci rimettiamo a Lui nella sincerità del cuore. Così è Dio, ci aspetta in fondo, perché in Gesù Lui ha voluto andare in fondo, perché non ha paura di scendere fin dentro gli abissi che ci abitano, di toccare le ferite della nostra carica, di accogliere la nostra povertà, di accogliere il fallimento della vita, gli errori che per debolezza o negligenza commettiamo di tutti abbiamo fatto. Dio ci aspetta lì, non lì, lì, nel fondo. Ci aspetta specialmente quando con tanta umiltà andiamo a chiedere perdono nel sacramento della confessione che faremo oggi. Ci aspetta lì.